Buongiorno a tutti, io mi chiamo Laura e oggi vi voglio presentare il nuovo prodotto della Filati 3 Sfere. È un cordino in lana per borse, ma anche cappelli, perché no? Si chiama Tricottino Wool 5.0. Il nome è un po' ingannevole in quanto si lavora con l'uncinetto numero 6. Ha una vasta gamma colori, ben 12, e le rocche sono di 250 grammi. Io ho iniziato a fare la mia borsa, ho rivestito il fondo a maglia bassa, ho fatto gli aumenti dovuti affinché il fondo non si imbarchi, ho fatto due giri di maglia bassa per creare una cornice e poi sono partita con il punto che ho scelto per la mia borsa. Questo punto non ha un nome che sappia io, è un punto carino che crea movimento ma non consuma molto filo, in quanto come ho detto le rocche sono di 250 grammi, che è un formato molto furbo, se si pensa alle nostre amate borse bicolore. Non dobbiamo svenarci per comprare i due colori. Vi spiego il punto che sto facendo. È molto semplice, è una maglia bassa presa in costa davanti, alternata ad una maglia bassa presa in costa dietro. È un punto che consiglio soprattutto quando si ha poco filato. Devo dire che si lavora molto bene, scorre molto bene ed è parecchio sostenuto. La percentuale l'ho già detta, 80% acrilico, 20% lana. Ve lo consiglio caldamente e per adesso vi saluto, alla prossima con una nuova novità di filati 3 fere.